Ciao a tutti, oggi prepareremo il passato di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a pezzetti, patate tagliate a pezzetti, carote tagliate a pezzetti, pomodorini, cipolla, sedano, dado vegetale, sale, acqua, olio evo, prezzemolo, basilico e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano e la cipolla, le patate, le zucchine, il prezzemolo e il basilico, le carote e i pomodorini e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità a sette. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua, il dado, il pepe, il sale. Chiudere con il coperchio, posizionare il cestello al posto del misurino e cuocere per 30 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'olio e frullare per un minuto da velocità 6 a velocità 10. Il passato di verdure è pronto. Impiattare e servire. passato di verdure. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.